perché per esempio i mestieri più pagati sono i mestieri più inutili perché deve essere strapagato un calciatore uno degli uomini più pagati al mondo in questo momento risulta essere un giocatore di box di cui non ricordo il nome i campioni di motociclismo lui lo era no no, campioni non maestrati vabbè però giocava insomma, cioè gareggiava ad altissimi livelli, ai massimi livelli insomma quindi non ha mai vinto la coppa ma comunque ti sei piazzato sempre lo portarei onorevolmente ti sei piazzato i campioni di motociclismo e non per esempio i grandi pensatori, i grandi filosofi quelli che riescono a dare un contributo all'umanità per farla evolvere i presentatori televisivi più fanno programmi demenziali più sono pagati quelli che fanno i programmi più seri, quelli che coinvolgono di più, quelli che informano di più spesso sono o sottopagati o addirittura lo fanno gratis quindi il denaro che ci ossessiona nessuno sa da dove viene sappiamo solo alcune cose sappiamo che noi abbiamo un debito pubblico come Italia immenso sappiamo che c'è una crisi finanziaria cioè significa che quindi c'è crisi di liquidità e c'è crisi di liquidità da parte delle amministrazioni da parte delle imprese che adesso non riescono più a ricevere i crediti c'è quindi un problema economico non solo dell'Italia ma di tutta l'Europa da dove nasce non si sa cioè non ce lo dicono grazie